All'epoca c'era la sensazione di sfidare un gigante, Davide contro Golia. I ragazzi che venivano da me avevano paura e timore. Così l'avvocato Andrea Coffari, parlando davanti alla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Forteto, ha raccontato di come iniziò a raccogliere le prime denunce da parte delle vittime degli abusi avvenuti all'interno della comunità di Vicchio, in provincia di Firenze. Il Forteto, ha detto, era accreditato, aveva una notevole forza economica. Erano persone che avevano subito tutta la vita, venivano da vicende familiari difficili e poi il Forteto aveva aggravato la loro situazione. Poi parla del fondatore della comunità, Rodolfo Fiesoli. Era una persona di grande carisma e il Forteto funzionava come una setta, aggiunge. C'era impermeabilità tra il cerchio interno e il mondo esterno. Coffari ha ricordato di aver conosciuto il Forteto attraverso l'avvocato Elena Zazzeri, che li fece conoscere Fiesoli e Goffredi e lo invitarono a cena da loro. Racconta anche la conoscenza con Giuseppe Aversa, che aveva da poco scritto il libro Ho ucciso mia madre. Lo invitò a partecipare alle riunioni del movimento dell'infanzia. Un giorno mi confidò di essere stato oggetto di attenzioni sessuali da parte di Fiesoli. Lo intervistai in modo approfondito e dopo una lunga discussione mi convinzi che era vero. Successivamente